Ciao, sono Arianna Rui di www.bastatrattinodiete.com Nel video di oggi voglio presentarti questa tecnica di riequilibrio emozionale si chiama EFT, Emotional Freedom Technique La sequenza è molto semplice, ti farò vedere i punti da stimolare e come stimolarli Una volta che avrai appreso questa sequenza sarà tua per sempre e potrai utilizzarla per qualsiasi problematica tu desideri Il primo punto è il punto karate che lo puoi utilizzare sia della mano destra che della mano sinistra e va solo stimolato in questo modo con tutte le dita dell'altra mano puoi utilizzare solo uno o solo l'altro oppure alternandoli durante la sequenza Questo qui è il punto karate ed è il punto di preparazione L'altro punto è sopra la testa Si può utilizzare la mano aperta o l'estremità delle dita in questo modo Poi l'altro punto è la radice del sopracciglio Anche qua puoi usare sempre sia il destro che il sinistro o entrambi oppure in questo modo Il lato dell'occhio sull'osso Quindi la stimolazione anche qua destra o sinistra o entrambe Sotto l'occhio in linea con la pupilla direttamente sotto Anche qua puoi fare in questo modo Sceglierai tu la cosa che preferisci Sotto il naso Sotto il labbro nel mento proprio dove c'è la fossetta nel mento Clavicole Che qua dove si uniscono le clavicole appena all'interno in un modo alternato generalmente si utilizza così Quattro dita sotto l'ascella e si picchietta in questo modo E poi le terminazioni di tutte le dita dove ci sono tutti i meridiani e il finale lo puoi fare così La procedura è tutta qua È molto semplice Si pronunceranno delle frasi di preparazione appunto partendo dal punto crato e poi come frasi di ricordo si utilizza una parte della frase della preparazione si stimolano tutti gli altri punti Non è sempre necessario stimolare come ho fatto vedere con il picchiettamento ma si può anche utilizzare il massaggio il leggero massaggio oppure la tenuta del punto E un'altra cosa non è mai necessario utilizzare tutta la sequenza si possono anche utilizzare solo alcuni punti a volte puoi sentirti più a tuo agio stimolare solo un punto per un periodo più lungo oppure a volte fare una sequenza più veloce All'inizio ovviamente consiglio di partire dall'altro proprio per ricordarsi i punti da stimolare però non è necessario cioè puoi farlo poi man mano che prenderai confidenza con la sequenza che più ti senti a tuo agio Per quanto riguarda i punti da stimolare è tutto e ti aspetto al prossimo video Grazie 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 Grazie